A Barletta il primo workshop di serigrafia in Puglia, Alita Cautel, la due giorni organizzata dalla Serishop con il patrocinio dell'ASL, BAT, Lenviros e Lilt, con l'obiettivo di coniugare in perfetta armonia economia, formazione e salute con il pieno rispetto dei regolamenti comunitari in merito alla prevenzione ed esposizione alle sostanze chimiche pericolose e cancerogene. Sì, sicuramente è un aspetto che a noi sta a cuore e portiamo avanti questa battaglia ormai da anni. Siamo stati un po' i pionieri per quanto riguarda la normativa RIC nel corso degli anni. Abbiamo promosso già i primi inchiostri che rispettavano la normativa RIC anche se non era ancora in vigore nel 2005. Abbiamo fatto altri seminari sulla normativa RIC già in passato e pensiamo che il RIC debba essere vista come un'arma a nostra disposizione per un attimino difenderci un po' da questa invasione che subiamo ormai da anni da Oriente. E non ultimo, non meno importante, soprattutto per un discorso di salute perché il nostro territorio è fatto da micro aziende di persone come me che sono titolari d'azienda ma ci lavorano, si sporcano le mani tutti i giorni e quindi vivono in prima persona l'esposizione ai prodotti e alle sostanze miscele chimiche che trattiamo. Tante le aziende, tanti gli espositori presenti al workshop, ecco un confronto vivace. Beh, questo ci fa un enorme piacere perché abbiamo avuto la disponibilità dei nostri fornitori, noi nel corso degli anni abbiamo avuto, ci siamo costruiti partnership importanti con multinazionali, nazionali ed estere che operano ormai in 70 paesi a livello globale. Siamo fermamente convinti che un confronto non può essere che positivo fra operatori del settore e produttori. La presenza di aziende collaudate che operano da tempo nel settore e il corso di serigrafia tenuto da Angelo Barzaghi hanno suscitato grande interesse e brillanti sollecitazioni in un territorio da sempre votato al tessile e al calzaturiero. Sì, ma più che i macchinari, in questa zona i macchinari sono un po' da sempre i padroni della situazione perché le serigrafie o comunque le aziende che girano intorno a questo tipo di prodotto, di settore, sono sempre state molto all'avanguardia, già dal passato, insomma sono sempre stati molto al passo coi tempi, anche a livello di strutture importanti. Quello a cui stiamo puntando è la qualità del lavoro, cioè dell'esecuzione, il conoscere le procedure, metterle in atto, migliorarle, renderle sempre più performanti per poter avere margini di guadagno, anche un pochino migliori di quelli attuali proprio perché la situazione di mercato impone sempre una decrescita dei prezzi rispetto alla qualità e quindi si perde magari di vista. Lo scopo è proprio quello di riportare sulla qualità ma anche la salute delle aziende perché è giusto che un imprenditore o comunque un'azienda che si occupa di questo settore possa avere dei margini di utile, quindi non sopravvivere ma vivere in modo adeguato. Senza trascurare la creatività? Certo, la creatività in questo settore se non c'è, il settore non può esistere, la creatività è da sempre il punto di forza di noi italiani, in particolare in situazioni e in posti come questi dove veramente ce n'è tanta. Altrettanto efficace si è rivelato l'intervento di Vincenzo Ciniero, tecnico, prevenzione ambiente e luoghi di lavoro spesa alla ASLBT, in relazione alle opportunità positive del regolamento RICC-CLP nel tessile calzaturiero. Intanto voglio dare questo segnale forte sia ai produttori, quindi agli imprenditori e al mondo della produzione, ma anche ai cittadini tutti. Perché dico questo? Perché in realtà questi nuovi regolamenti RICC-CLP vogliono certamente tutelare i terzi cittadini e l'ambiente in cui viviamo, ma voglio ricordare appunto agli imprenditori che fa il paio con l'81, cioè il testo unico delle leggi sulla sicurezza sul lavoro. E quindi quali le opportunità devono comunque conformarsi a quello che vuole l'Unione Europea? Certo, io suggerisco anche qua agli imprenditori di non guardare, non vedere queste nuove regolamentazioni come ulteriori orpelli o adempimenti amministrativi che vanno ad appesantire la loro realtà produttiva, ma di vederle al contrario come opportunità nel senso di cominciare a sostituire prodotti più pericolosi, prodotti chimici più pericolosi con altri meno pericolosi e vi posso garantire che ci sono mercati nei paesi ad esempio del nord Europa che sono molto più sensibili e che quindi cominciano a richiedere quella tipologia di prodotti, cioè come dire prodotti maggiormente ecosostenibili, maggiormente green e naturalmente molto meno pericolosi per se stessi e per l'ambiente. Grazie a tutti.